Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, ci troviamo nelle terre infette orientali, naturalmente su Warcraft, e vediamo di fare una spedizione che si chiama Uldaman, ah che c'è qua? Uccidiamolo, è d'obbligo non uccidere questo perché è raro. Niente stavo dicendo, siamo qui che facciamo una spedizione che si chiama Stratol e in pratica questa spedizione ha due ingressi e sono due spedizioni diverse con lo stesso nome naturalmente, una dall'ingresso principale che è questa e una dall'ingresso tipo sul retro che sarebbe dal cancello, e un'altra spedizione che vi farò vedere dopo, magari dopo farò un video e farò vedere anche quell'altro Stratol. Allora, ci troviamo davanti un casino di teschi e di gente morta, vediamo livello, cosa sarà? 40-50 presumo, forse qualcosina di più, 44-54 come spedizione. Cioè dai, vediamo di andare avanti abbastanza velocemente, fa fuori un po' tutti. e vediamo com'è, quanta roba da prendere. Ok, uccidiamo anche questi, prendiamo anche la posta, si dai, prendiamo anche la posta. Questi sono saltati fuori dal nulla, ok, non ci danno niente, andiamo avanti. Quindi, prendiamo tutta la roba che ci danno, proseguiamo, andiamo di qua a fare il boss. Qua, come al solito, si chiudono i cancelli, arrivano questi topolini qua che mi vogliono mangiare. Però sono protetto dal mio cerchio magico. Dai, apriti. Su, sono finiti i topolini, apriti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ok, arriviamo qui all'altro boss, che è questo qua, che poverino muore subito. Facciamo fuori anche questi, se no continuano a spararci. E prendiamo tutta la roba. Ma quanta roba, tizzo lì. Entriamo. Noi entriamo in questa specie di castello. Noi entriamo in questa specie di castello. Questa è l'altro boss. Leggiamo anche i libri. E andiamo avanti. Allora, andiamo a far subito l'altro boss. Qua sotto. Qua sotto. Oh no. Cosa facciamo? Sì, dai, andiamo subito qua. Così ci tiriamo via il pensiero. Dai, andiamo. Eccolo qua. Tra l'altro qua. Tra l'altro qua noi possiamo sparare con le palle di cannone. Ma gli altri tizi. Completato anche questo. Ok, finalmente siamo ritornati su. Ora possiamo fare l'altra sala, l'altro corridoio di questa specie di castello. Non so neanche io bene come definirlo. Andiamo, andiamo, facciamo fuori anche questi qua, per forza. Ragazzi, andiamo all'ultimo boss. Che è questo qua, è bello come graficamente bello. Zembal Nazar. Molto bello. Niente, aspettiamo la dama, i nani e quant'altro che ci dà la ricompensa per le missioni svolte. Niente ragazzi, io vi invito a iscrivervi al mio canale. Se vi è piaciuto lasciate dei like e commentate qua sotto. Se volete altre spedizioni o incursioni di questo tipo o di altro, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ciao ragazzi, al prossimo video.